ridley scott di merda buongiorno a tutti sono sempre victor lasdo 88 allora c'è un'offerta molto interessante a partire da oggi 20 novembre che dura per tutto il periodo di natale sul sito della bottega del nerd che trovate linkato qui sotto e che sicuramente vi piacerà allora il sito della bottega del nerd come sapete è un sito dove potete acquistare statue action figure prop replica gadget vari ispirati a film videogiochi serie tv tra i prodotti più conosciuti e gettonati di sempre e adesso c'è questa offerta per cui se spendete più di 100 euro sul sito avete in omaggio un articolo tra quelli che sono proposti tutti gli articoli in regalo con la promozione sono compresi tra i 15 e i 20 euro circa di valore ci sono bacchette di harry potter tazze zerbini insomma articoli che poi potete utilizzare per un bel regalo di natale voi andate ad acquistare qualcosa per voi spendete più di 100 euro e poi potete scegliere tra molti prodotti uno di questi potete avere per appunto in omaggio e magari volete fare un regalo a un amico a un parente insomma è sicuramente interessante per cui date un'occhiata e la cosa bella del sito della bottega del nerd è proprio il fatto che ci sono prodotti per tutte le tasche ci sono magari le statue che costano tantissimo ma ci sono anche magari action figure gadget e quant'altro che sono più magari alla portata di portafogli meno farciti ed è una cosa secondo me molto interessante perché tutti i prodotti anche quelli magari meno costosi sono di ottima fattura quindi date un'occhiata e sto parlando della bottega del nerd perché ragazzi mi hanno inviato qualcosa dalla bottega del nerd e li ringrazio mi hanno inviato una cosina io ho una scatola qua ok ho una scatola ho aperto giusto lo scotch ma non so ancora cosa c'è dentro di preciso quindi andiamo a vedere cioè non so neanche come vi giuro oh cazzo ma quanto oddio ma Gesù vi rendete conto oh mio dio alien alien warrior dal film aliens questa è una statua ragazzi oh famma ma uh statuona 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 signori statuona 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 gigante ah allora assemble instructions istruzioni di assemblaggio adesso devo aprire perché qua c'è un po' di polistirolo sono un po' emozionato devo essere sincero allora è della sideshow che è una marca per le statue in cre edibile sono emozionato mamma mia guardate il livello di dettagli la sideshow non si sventisce mai ragazzi il livello di dettagli vi pre... mamma Sono due pezzi, eh. Niente di troppo complicato. Il trono. Allora, le istruzioni, sì. Ed eccola qua. Questa è una delle cose più belle che io abbia mai avuto nella mia casa. Io veramente sono allibito, cazzo. Ma in una maniera che non vi so spiegare. Cioè, è spettacolare, Cristo. Ma veramente, eh. Ragazzi, io non posso far altro che ringraziare di cuore ancora una volta la Bottega del Nerd perché davvero questa statua della Sideshow è incredibile. Io, tra l'altro, avrei sempre voluto avere una statua di Alien, ma costavano delle cifre proibitive, quindi grazie. E non posso far altro che rimandarvi ancora una volta al sito della Bottega del Nerd dove trovate questa offerta. La statua, se non sbaglio, questa qua non è acquistabile perché è un'edizione limitata a pochissimi pezzi in tutto il mondo, quindi è introvabile ed è anche parecchio rara. Un oggetto, insomma, che mi fa molto piacere di aver ricevuto in omaggio e che custodirò gelosamente nel mio salotto per accogliere gli ospiti come si deve. Però vi invito a guardare altre statue analoghe che secondo me sono molto interessanti. Ce ne sono alcune bellissime che non costano neanche tanto, costano magari tra i 150 e i 200 euro. Questa costa molto di più, ovviamente. Però ci sono tante statue, magari non grandi come questa, ma ottime, che sono più alla portata dei taschi di tutti. Quindi date un'occhiata perché secondo me assolutamente è pieno di prodotti che meritano e non vedo l'ora, porca miseria, di poter mostrare questa statua fantastica agli amici perché un sacco di persone sicuramente rimarranno folgorate, ne sono sicuro. Quindi grazie di cuore ancora una volta alla bottega del nerd per questo omaggio clamoroso. Io vi ringrazio infinitamente per aver sentito fin qui, vi abbraccio, grazie veramente di cuore e noi ci vediamo al prossimo movieblog. Ciao a tutti.